Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Allora, oggi vi voglio parlare di Darkseid X3, che è l'ultimo gioco che ho provato recentemente su piattaforma PC. Ringrazio intanto ovviamente il terminale di Evolve per avermene fornito una copia. E vorrei parlarvene perché era un titolo che aspettavo da molto tempo, però... Vabbè, il però ve lo dico in fondo, cosa ne penso? Soltanto che, diciamo, non mi ha convinto quasi per niente. Partendo dal motore di gioco, è lo stesso di Darkseid X1 e 2. Ovvio, un po' modificato, un po' ritoccato la grafica, poi andando avanti nel tempo, è stata aggiornata ed è stata potenziata, soprattutto per i nuovi sistemi creativi. Il primo Darkseid X si parla di un gioco di ormai 4-5 anni fa, quindi comunque tempo ne è passato e ha fatto ed ha avuto dei miglioramenti. Quindi sul comparto tecnico si poteva, secondo me, fare qualcosa di più. Cioè, si vede la grafica bella, piacevole, un po' l'effetto World of Warcraft, dove tutto è colorato, sbrillucicoso, nella maniera giusta, no? Tanto, tanto bloom come effetto, quindi usata anche bene in una parte, però è una grafica che poi nel tempo, secondo me, andrebbe un attimino svecchiata e potenziata, perché basta avvicinarsi a un mostro o avvicinarsi a una struttura e si iniziano a vedere dei pixel grandi così. Lato sonoro, quindi colonne sonore del gioco, ovviamente la solita musichetta liscia, mai troppo profonda, mai troppo importante, anche nel momento giusto, no? Una musica che ti accompagna, più che farti sentire, ti accompagna e devi andare a descrivere quell'ambientazione che è un po' quella cupa del gioco, quella un po' malinconica, quella alla fin fine della fine del mondo e dell'apocalisse, in un mondo completamente distrutto, che non si vede nemmeno in un gioco come The Last of Us e deve farti da accompagnamento e lì, secondo me, la colonna sonora è sempre stata una delle parti più lieve, leggera, non è memorabile, ma giusta e al punto giusto per accompagnarti nell'avventura. Quindi lì il voto è assolutamente positivo. L'ambientazione del gioco, come detto precedentemente, è sempre la stessa, quindi il mondo distrutto, i demoni che fanno la guerra contro gli angeli, quindi Paradiso e Inferno, angeli e demoni, i cavalieri dell'apocalisse nel mezzo, e in tutto questo un mondo completamente devastato e distrutto. Come avevamo visto nel primo Darksiders, quello con guerra, era un mondo completamente distrutto, in rovina, però ancora nel vivo, nel fulcro della battaglia fra il bene e il male, fra gli angeli e i demoni. Nel secondo, con morte, si inizia a vedere anche un pochino di più la razza umana che forse c'è, forse non c'è, e ci sono questi nuovi giganti che fanno da guardiani della terra. Nel terzo, il gioco, questo qui è l'ultimo uscito, di cui i cavalieri dell'apocalisse chiamati in causa, è Furia questa volta, è un personaggio femminile, è il primo dei quattro, e vediamo che gli umani ancora ci sono. Dopo tutto questo tempo, dopo tutti questi anni di guerra e tutto quanto, l'essere umano ci sono, stanno riprovando a raggrupparsi in un piccolo hub, per vedere di sopravvivere, essere portati avanti e difesi da questi guardiani, e quindi si vede che la razza umana sta cercando un pochino, non di prevaricare c'è un po' da far mondo finito, però un pochino di riprendere, diciamo, controllo, un minimo delle loro vite. Però l'ambientazione va avanti, anche lì si poteva fare qualcosa di più, visto che i soliti palazzi distrutti, mega alberi, la natura che si riprende alla città, erano cose già viste nel primo. Però vabbè, l'ambientazione è quella, ci piace, ci sta andata avanti così. Arriviamo al gameplay. Il gameplay è la parte invece che non mi è piaciuta per niente, non mi è piaciuta di meno, non mi è piaciuta per niente, perché si parla sempre di un cavaliere dell'Apocalisse, si parla sempre di furia, quindi uno dei quattro cavaliere dell'Apocalisse, che ricordo essere guerra, morte, furia e conflitto, poi il nome è strano perché conflitto non era già guerra, vabbè, comunque è un altro modo di chiamarlo, ma va bene lo stesso, e questa volta viene chiamata in causa furia, il gioco si apre con guerra, vi ricordate davanti all'Arzo Consiglio, ancora lì incatenato, che chiede pietà per quello che ha fatto, cerca di dire di Iberzi per l'errore che ha fatto, aveva spezzato il sigillo per far intervenire i cavalieri, e questa volta viene chiamata in campo furia, che tra l'altro, secondo me, hanno avuto una genialata, perché è il primo personaggio donna dei quattro cavaliere dell'Apocalisse, ed è giusto, con un pubblico così ampio che gioca a Darksiders, ci voleva anche un personaggio femminile. Questa però non è furia, il cavaliere dell'Apocalisse, è Furietta, la sorella minore di guerra. Perché la chiamo Furietta? Perché, allora, nel primo gioco, hanno fatto un hack and slash, classico, God of War. Non c'è da descrivervi niente, no? Un hack and slash alla God of War, e ci è piaciuto da morire. Nel secondo hanno voluto fare con morte un open world, misto GDR, addirittura cambiava armature, equipaggiamente, a me non è piaciuto particolarmente, però amalgamato bene ci stava, perché un open world andava dove ti pare, in più potevi cambiare armature, non come guerra che era sempre vestito uguale tutto il gioco, morte cambiava, 20 armature, 20 armi, armi a due mani, una mano, doppie armi, quindi poteva anche starci. Nel terzo hanno voluto fare una via di mezzo con un Dark Souls, un Souls-like, no! Ma no, perché in un gioco del genere, occhio, potrebbe anche funzionare, perché c'è... Però, qual è il bello? Ti vede arrivare addosso 4, 5, 10, 20 scheletri, o comunque umani, goal, contagiati, vi ricordate guerra che entrava nel mezzo? Uno lo prendeva e lo scoppiava con la mano, uno gli sparava con la pistola, la spada a due mani ci calava nel mezzo, una ammazzava a 18? Qui non è così. Qui rischiate di andare in corpo a corpo con 6 scheletri del cazzo? Per un'altra parola, ma è la verità. 6 scheletrini e rischiate di morire. Rischiate che vi ammazzino, ma come? Furia, il personaggio più combattivo, più furioso, se non si chiamava Furia, con due catene, tipo Kratos per combattere, c'è, ma arrivano 5-6 scheletri in corpo a corpo, più una bestia strana e rischio di morire. Ma dove siamo? Cioè, non ti fa sentire di avere tra le mani uno dei Cavaliere dell'Apocalisse. Sembra di avere un apprendista umano buttato lì nel mezzo che deve fare, insomma, la sua missione. Il problema poi si pone quando ho fatto il primo mini-boss, non era un boss, è chiaro, il mini-boss, e poi c'è anche un secondo fattore che vi dico dopo. Faccio il primo mini-boss, arrivo e muoio. Vabbè, sono morto, ci sta. La prima volta ai giochi, anche nel gioco normale, non vi ricordate quello grosso, al ponte all'inizio vi tirava le macchine infocate nella lava? Ci sta, oh, è la prima volta ai giochi. Torno lì, e trovo le mie anime che girano. Perché perderete le anime morendo, proprio come un Source Like. Riraccatto le anime, mi ritornano tutte le anime, e già lì mi era preso un pino l'incanzo e che ho detto, no, stai a vedere che hanno voluto a fare un Source Like. Ricombatto il boss, 3, 4, 5, alla sesta volta che muoio, mi arrabbio, sinceramente, perché poi era anche tarda l'ora, volevo finire ad andare a letto per far save. Dopo la sesta volta che muoio, faccio, no, ma stai a vedere che hanno fatto la vera Source Like. Sicché mi è toccato tornare in dieta all'inizio, con tutte le anime, spenderle per potenziarmi, andare avanti, e poi qui arriva il bello. Torno al bonfire, riammazzo i mostri, ritorno al bonfire, riammazzo i mostri, ritorno a Dark Souls, mi potenzio abbastanza, da passare 5-6 livelli, da tornare al boss, mini-boss, ricordo, ho sbagliato il mini-boss, e ucciderlo. Qui dov'è il problema? Il problema si pone che questo è un Source Like, non è un Dark Souls, ragazzi, è molto più veloce e immediato, cioè, già Bloodborne era di più, questo è 4 volte Bloodborne, però comunque è un Source Like, o comunque una via di mezzo. Ma non va bene, cioè, io che ho comprato Darksiders, voglio un Harkenslash, lo voglio come il primo, o tutta al più, come il secondo, dove? C'era anche la componente GDR, che mi garbava già di più. Darksiders è un gioco che non ha anima, perché è bello come ambientazione, come personaggi, come storia, come tutto, anche le coloni, mi garba tutto, anche la grafica, il primo un Harkenslash, il Ziondo un open world RPG, e il terzo un Source Like, il quarto cosa lo fanno diventare? Un simulatore? Cioè, il quarto cos'è? Un gioco di pesca? O un Battle Royale? Cioè, non sanno più cosa fare per prendersi il pubblico, il problema è quello lì, non sanno più cosa fare per prendersi il pubblico. E qui, subenta la domanda che io mi sono fatto, ma penso tutti quelli che hanno derogato il gioco con Guerra, il primo Darksiders, ma se c'è garbato così tanto il primo che è andato su Steam e c'è valutazione molto positiva, la gente lo ama, addirittura tanti hanno detto che quello è il padre degli Harkenslash, nemmeno Kratos con God of War, ma Darksiders, ma perché dovete cambiarlo? Poi, ci sta che di quel pubblico lì il 90%, caliamo, il 70% apprezzerà quello che avete fatto, il 30% no, ma il 30% l'avete perso e voi dovete continuare a tenere il 100% del pubblico. Cioè, come mi è sembrato, come dire, Dark Souls, che è un Souls-like, no? Molto difficile, hardcore come tipo di gioco, nel prossimo che faranno diventerà The Witcher RPG che ti butti nel mezzo, l'ammazzi tutti, usi due poteri ed è molto più facile concettualmente come gioco. Ma perché? Cioè, se io compro Dark Souls e non voglio The Witcher, se no comprerai The Witcher, quindi non ho capito perché hanno fatto una cosa del genere, non me la spiego. Quindi, in conclusione, visto che non voglio mai fare recensioni, ma cosa ne penso? Buttare fuori veramente quello che ho dentro e ne penso su un titolo? Io trovo che il titolo a me non è piaciuto per niente, ve lo dico proprio sinceramente, li do a voto 5 su 10, quindi per me non prende nemmeno la sufficienza, ma non perché sia brutto. Magari qualcuno lo compra, un fanatico, un amico mio, magari come Pippo che gioca a Dark Souls e piacerà morire, magari gli piacerà di più, anzi, in questa nuova forma, no? Come quelli di tante persone, gli piace più la nuova versione di Assassin's Creed che è diventato ormai un open world RPG rispetto a quello che era un tempo, no? E a me piace di più, sì, è vero, il nuovo tipo di Assassin's Creed rispetto ai vecchi, però quelli sono gusti. Ma qui io Darksiders mi piaceva perché volevo buttarmi nel mezzo con guerra, tirare tre colpi di spada e ammazza tutte. E poi una cosa, dimenticatevi i combattimenti episi con i mostri con i quick time event, qui non ci sono più, eh? Classico, premi cerchio nel momento giusto, premi triangolo veloce, no? Perché ve l'ho immaginato un Dark Souls con i quick time event, non ci starebbero nemmeno. A me non piace sinceramente questa cosa qui. In conclusione, il gioco c'è? Sì, non vuol dire che se a me non piace devo dire no, non c'è un cazzo da fan, questo gioco fa schifo. No, il gioco c'è. Però a me non è piaciuto per nulla e come sempre dovessi consigliarlo a un amico o alle persone che mi seguono direi ragazzi io ve lo consiglio se volete non è Dark Souls ma nemmeno un terzo di Dark Souls però comunque cerchiamo di fare un Souls-like e comunque non è per niente il Darksiders del primo. Quindi io lo consiglierei a quel pubblico che vuole ritrovare una specie di Souls-like anche in un gioco che un tempo era una che slascia. A me non è piaciuto per niente, vi giuro niente tanto è vero che ci ho giocato 3-4 ore e l'ho smesso proprio perché non mi possono arrivare 5 scheletri addosso a ammazzarmi cioè io sono Furia il cavale dell'apocalisse non sono Peppino Zoppo con la spada domani cioè non mi è piaciuto quindi no voto giù li do 5 su 10 non è il gioco una merda ma a me non mi è piaciuto per niente se lo dovete comprare prima guardatelo bene su qualche video perché se vi aspettate che sia come il primo Darksiders ragazzi prendete e lo riportate al GameStop e chiedete il rimborso direttamente o da Steam quindi occhio dateci un'occhiata valutate per bene per me questo qui non vale perché non è Darksiders che aveva evoluto e che mi aspettavo tutto qui ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate con un commento e niente ci vediamo alla prossima ciao belli